Buone notizie per l'Unione della Romagna-Faintina. Dalla Regione Emilia-Romagna arriveranno 709.303 euro per valorizzare i servizi ai cittadini. Risorse per metà stanziate dallo Stato che arrivano da un bando regionale finanziato con oltre 15 milioni e mezzo di euro per premiare gli sforzi dei comuni nella razionalizzazione delle risorse impiegate. Gli oltre 700.000 euro destinati alla Romagna-Faintina sono il secondo maggior finanziamento destinato alle 41 unioni che hanno partecipato al bando. L'importo maggiore è sempre finito in provincia di Ravenna, alla bassa Romagna, con oltre 750.000 euro. Entrambi gli stanziamenti sono dei gran lunga superiori alle largizioni a favore delle altre unioni, le quali non soprano 450.000 euro. La ripartizione delle risorse ha tenuto conto del numero e della consistenza delle funzioni gestite della popolazione, del territorio e del numero dei comuni dell'Unione e inoltre dell'effettività economica della gestione delle funzioni. È una soddisfazione perché è la riprova della validità del progetto strategico che supporta lo sviluppo della nostra Unione. Ci fa piacere perché è un segno di apprezzamento da parte della Regione per la strada che stiamo realizzando. L'apprezzamento non è chiaramente discrezionale perché il bando ha dei parametri ben precisi, ma questi parametri vanno a premiare le unioni che sono effettive e non solo sulla carta. La nostra Unione è un'Unione effettiva perché non sono chiacchiere, ma i dipendenti sono oggi dipendenti dell'Unione e non più dei comuni, comeppure i capitoli di bilancio per quanto riguarda la spesa li troviamo sul bilancio dell'Unione e non più sui comuni. Quindi il trasferimento è vero e reale delle risorse umane e delle risorse economiche. Come saranno utilizzati questi soldi? Questi sono i contributi previsti dalla legge sul piano di riordino territoriale per incentivare lo sviluppo delle unioni dei comuni. L'Unione della Romagna-Faintina ha ottenuto nell'ambito del plafond complessivo stanziato dalla Regione il secondo importo per dimensione di contributi. Sono somme assolutamente fondamentali per sostenere lo sviluppo dell'Unione, per finanziare i servizi gestiti in comune, in particolare i servizi cosiddetti trasversali, e anche per sostenere gli investimenti che sono indispensabili per poter lavorare insieme, a partire dagli investimenti informatici che sono i primi a essere messi in campo per poter avere una gestione unitaria dei servizi. Quali saranno i prossimi passi verso l'Unione definitiva? È previsto che dal primo di gennaio avvenga il trasferimento integrale di tutti i dipendenti. Gli altri comuni, escluso Faenza, hanno già trasferito tutti i dipendenti. Solo Faenza ha tuttora in organico una settantina di persone che verranno trasferite entro il primo di gennaio unitamente alle residue funzioni che ancora sono in capo ai comuni. Quindi verrà trasferito la funzione patrimonio, gestione patrimonio, verrà trasferito il servizio cultura, lo sport, e tutti quei servizi trasversali come l'assistenza agli organi sociali, le segreterie, il servizio contratti, appalti e il contenzioso legale. A questo punto l'intero pacchetto di funzioni e servizi gestiti una volta dai comuni sarà in capo all'Unione. Questo si tratta del conferimento formale. È chiaro che poi avremo davanti ancora dei mesi di assestamento dal punto di vista organizzativo e su questo siamo ampiamente impegnati. Federico Legge per Faenza Web TV